Grazie. Grazie. Allora, ringrazio Claudio dell'invito. D'anno scorso ho fatto un intervento così, un po' a braccio, quest'anno ho delle novità. Il mio nome è Stefano Calandra e sono, come ricordava Claudio, laureato in Economia. Ho fatto una specializzazione statistica che mi ha permesso di trasformare il mio interesse a livello quasi hobbistico per l'astronomia a uno studio invece un po' più approfondito sui terremoti e sui rapporti fra terremoti e pianeti, pianeti del Sistema Solare e Sole e Luna. La posizione di questi corpi celesti in relazione alla Terra, in base a delle geometrie sia di quadratura che di congiunzione, causano l'innesco dei terremoti. Causano, posso dirlo come parola, ma non posso dimostrarlo. Posso invece dare un'informazione su un legame bidirezionale fra posizione dei pianeti e innesco dei terremoti. Quindi a specifiche posizioni di Luna e pianeti corrispondono specifiche risposte delle faglie terrestri. Cioè siamo riusciti anche a determinare il dove. Praticamente alcune faglie rispondono ad alcune geometrie planetarie in posizioni appunto relativamente alla Terra rispetto ad altre faglie che invece con quelle posizioni non rilasciano nessuna energia. È come una sorta di firma gravitazionale. La geostesimologia planetaria è un termine nuovo, coniato da me. Diciamo che sto cercando di capire, al di là delle relazioni bioniveco e statistiche di cui adesso oggi parlerò, se ci sono delle cause, forse vanno cercate nella fisica quantistica o nella fisica classica. Adesso vi faccio sentire questo breve spezzone di video dove fondamentalmente si parla di applicazioni medicali dove c'è una firma vibrazionale, cioè dove se tu dai un certo suono a una cellula indistinta, a una cellula staminale, questa cellula staminale si trasforma in specializzata. Quindi se lei dai la musica della cellula del pancreas, questa staminale si trasforma in pancreas. Se lei dai la musica, ovviamente con un emettitore di suoni, con una certa frequenza, si trasforma magari in una cellula del cardias oppure dell'acute. Faccio parlare agli esperti. E la voce di una cellula di lievito racconta il suo stato metabolico, l'attività dei suoi geni. È stata la prima ad essere ascoltata. Ha aperto la strada alla meccanobiologia che cambia il paradigma della medicina dalla chimica alla fisica. Ogni cellula produce vibrazioni meccaniche reagendo a suoni, oscillazioni dei campi magnetici, luce, cioè radiazioni elettromagnetiche. Tutta energia fisica che è appositamente convogliata in cellule malate può riprogrammarle verso l'autoguarigione. Autoriparazione intrinseca negli esseri viventi anche per le molte staminali contenute nei tessuti, tanto che ogni tre mesi rinnoviamo il 70% delle nostre cellule. Il nostro lavoro è stato dapprima di poter mettere in evidenza come queste cellule, per esempio, potessero vibrare esprimendo una sorta di firma oscillatoria, meccanica, di firma vibrazionale che fosse in qualche modo indicativa del loro stato di salute, di sofferenza o se parliamo di una cellula staminale, forse in qualche modo specifica del loro destino. Una cellula che diventa, si sta differenziando in una cellula cardiaca, neuronale, vascolare e così via. Questa è la voce di una cellula cardiaca riprogrammata. La si è potuta cogliere grazie a questo microscopio a forza atomica. Ecco, questo tipo di ragionamento porta a una serie di deduzioni che qui non faccio, non c'è il tempo. Però, oltre alla fisica e alla medicina classica, si possono determinare, si possono immaginare, perdono, delle cause-effetto, delle relazioni di cause-effetto fra le posizioni dei pianeti e l'innesco dei terremoti nelle faglie terrestri, anche tramite la fisica quantistica. Chi la conosce sa che ci sono un paio di postulati affascinanti nella fisica quantistica. Uno dice, ad esempio, che la realtà diventa tale quando la osservi. Nella fisica quantistica funziona così. Un altro postulato interessante è che, fondamentalmente, come ricordava prima il collega, ci sono dei momenti, nello stesso momento, una particella subatomica si può trovare qui o lì. Quindi l'ubiquità della cellula subatomica. Allora, quello che io mi chiedo, nella causa-effetto, si potranno un domani trovare delle relazioni che adesso sono statistiche, soltanto, come vi farò vedere, fra pianeti e terremoti, e trovare invece relazioni quantistiche? Cioè, perché quella posizione gravitazionale causa il terremoto in quella faglia? Perché vi ho richiamato la firma vibrazionale? Perché secondo me, così è intuito, se io suono la corda di un violino mi dà una certa nota, ne suono un'altra mi dà un'altra nota, perché una faglia non può essere responsive, quindi risponde a determinate sollecitazioni gravitazionali di posizioni di pianeti magari in congiunzione. Altre faglie magari rispondono alla disposizione degli stessi pianeti, che ne so, Terra, Sole, Luna, Saturno, in quadratura. Evidentemente c'è una relazione fra queste posizioni che non sono casuali, non è che casualmente c'è la posizione dei pianeti e casualmente c'è il terremoto. Cioè noi, come vi farò vedere, abbiamo trovato che statisticamente c'è una logica, quindi quella posizione nel passato ha causato i terremoti nella stessa faglia, la stessa posizione. Quindi una volta che trovi la corrispondenza, diciamo la relazione fra queste due cose, tra due fenomeni, forse in queste due, e una di queste due branche della fisica, si può trovare una risposta, ma non vado oltre chi è fisico quantistico sa quello che intendo dire. Noi ci diamo una... io col mio ingegnere, il nostro programmatore con cui lavoro, ci siamo dati delle spiegazioni legate naturalmente alla fisica newtoniana, per cui i pianeti quando sono in relazione di masse e distanze provocano delle tensioni a entrambi, come ci sono i terremoti, ci saranno i martemoti, ci saranno i saturnoti, ma non lo possiamo sapere. Quello che è certo è che maggiore è la linearità dell'allineamento e maggiore è la forza risultante. Questo lo dice non solo Newton, ma anche la matematica dei vettori. Quindi la nostra teoria, il nostro modello gravitazionale, partiamo da una supposizione che ci sono delle cause newtoniane, o c'è una causa magari della fisica quantistica. In realtà il nostro modello non dimostra un meccanismo di causa-effetto, tra forze gravitazionali e terremoti. Il nostro modello non spiega le modalità di interazione fra pianeti e terremoti, ma conferma un legale bidirezionale statistico. E su questo vi spiego delle cose. Anzitutto noi abbiamo osservato che sotto una certa soglia di 11 gradi di scarto fra posizioni di due corpi in linea, in questo caso stiamo considerando Luna, Sole e i sette pianeti del Sistema Solare, escludendo Plutone, quando abbiamo un angolo alfa minore di 11 gradi, e quando dentro questo angolo, questo cono, si trovano tutti i pianeti interessati dalla linea che poi fa il triggering, cioè fa l'innesco del sisma, abbiamo una posizione da mettere in un database. Quindi quel giorno, quell'ora, quelle posizioni dei pianeti le mettiamo in un database statistico. E andiamo a confrontare quando quella posizione si è ripetuta nel passato e cosa ha causato. Il nostro software utilizza l'algoritmo delle femeridi elaborato dal modello VS0P87 di Bertagnone e Francou, che comunque ha un codice SSN, quindi è un algoritmo utilizzato scientificamente, è citato da tantissimi altri ricercatori, quindi è, diciamo, scientificamente comprovato. Questa è l'anima del nostro modello. Quindi utilizziamo le posizioni planetarie dette effemeridi prendendole da questo database. Grazie alla posizione della Luna, che adesso vi farò vedere, quando arriva la Luna fondamentalmente si crea il sisma su una situazione di pianeti già delineata in linea, la Luna ci dà sia la firma gravitazionale per il quando, quindi sappiamo dire il giorno, fino anche alla mezza giornata, cioè riusciamo a dare in 12 ore qual è il momento del sisma, sia il dove. Il dove lo utilizziamo con le firme gravitazionali delle congiunzioni delle quadrature planetarie con la Luna. Questa mappa era già online, l'abbiamo tenuta online per circa un anno e mezzo. I nostri iscritti al gruppo, sono più o meno 35.000 utenti, si stanno già informando su quelle che sono le posizioni del sisma, perché questa mappa è già localizzata, faceva vedere il pallino del sisma probabile. Purtroppo il software mi è stato sottratto da un fidato collaboratore. Siamo in causa, spero di riuscire a uscirne entro la settimana prossima, almeno con la possibilità di rivedere le mappe online, quindi l'utente può vedere dove potrebbe essere il sisma. Noi ci aspettiamo un incremento sismico dopo la pausa che c'è stata da marzo fino ad oggi, pausa anche da noi annunciata, cioè a marzo abbiamo detto ci sarà una pausa sismica da marzo a maggio, da maggio a luglio ci sarà un incremento in base alle informazioni che adesso vi faccio vedere. Quindi la Luna, la Terra e i pianeti riescono a dare il quando, riescono a dare il dove e anche riescono a dare il quanto, cioè la magnitudo stimata in termini di massima magnitudo, cioè possiamo dire arriverà fino a 4.3 Richter, arriverà fino a 5 Richter oppure oltre 5 Richter, riusciamo a dare un termine massimo. Poi all'interno, non avendo noi, ed ecco la rete delle reti che ospicava Claudio, non abbiamo le mani nella Terra, abbiamo le mani nel cielo, abbiamo gli occhi al cielo, quindi non abbiamo la risposta della Terra che invece in una rete delle reti di Claudio Paci si potrebbe, con l'aiuto dei geologi che ci danno la risposta della Terra a queste sollecitazioni gravitazionali, trovare la definitiva soluzione su determinare esattamente dove, quando e quanto ci sarà un terremoto al fine di salvare vite. Tutto cominciò il 26 ottobre 2016, queste sono le comunicazioni interne al mio gruppo di lavoro, dove io la mattina davo le informazioni ai miei colleghi, guardate che stasera, in base ai miei calcoli, ci potrebbe essere un sisma. Io era il dubbio di come avvertire la gente, si decisa di fare un comunicato, diciamo non troppo spinto, una cosa un po' soft, scrivemmo soltanto il rinclamento rischio sismico per stare la notte dei 26.10, questo lo scrivemmo la mattina su Facebook, sul nostro gruppo, e scrivemmo che in base al modello teorico per la serata di notte dei 26, a partire dalle ore 17.30, quindi questo è stato scritto alle 11 del mattino, si raccomanda un'attenzione particolare perché alcuni parametri fanno pensare a un possibile evento sismico di un certo rilievo in area mediterranea. Schissi semplicemente che si pensava, dati gli allineamenti presenti, a un potenziale rischio sismico elevato. Il sismo è avvenuto, è avvenuto tra le 17.30, alle 19.30, come sapete, di quel giorno, il giorno dopo, io ho scoperto di aver salvato 12 persone. Ho salvato la vita da 12 persone, queste sono 12 persone che ho incontrato, sono andato a Norcia, sono andato, scusate, da Matrice, e a Castel Sant'Angelo. La loro casa è crollata, sono usciti fuori prima perché hanno visto il nostro avviso, c'era gente che è andata al mare, salvandosi la vita e queste persone mi hanno ringraziato, adesso vivono nelle casette che hanno previsto per quelle zone. Questo ci ha dato tantissima benzina perché abbiamo capito che pur non potendo risolvere i problemi delle persone in maniera definitiva eravamo su una strada giusta. Questa è una simulazione di quei due sismi. Il 26 e il 30 di ottobre abbiamo avuto due sismi. Il primo è stato causato dall'allineamento Sole, Venere, Terra che è quello che vedete con la linea rossa. È chiaro che gli allineamenti sono rari, non è che tutti i giorni abbiamo un allineamento e poi ce ne siano due ancora più raro. Diciamo che capita un paio di volte all'anno e non tutte le volte causa sismi perché per fare il sisma non bastano due allineamenti ma ci vuole anche la Luna. La Terra e la Luna erano in queste posizioni quindi Sole, Mercurio e scusate Mercurio, Sole, Luna, Terra anzi la Luna si stava per allineare con Giove quindi la Luna è entrata nella linea Terra-Giove e ha scatenato il sisma Mercurio, Sole erano in linea fra di loro con un'angolatura minore di 11 gradi e Venere e Saturno, Venere e Terra erano anche fra di loro molto precisi sotto i tre gradi di scarto i baricenti dei pianeti. Quindi che cosa dobbiamo verificare? Verifichiamo che tra il 26 e il 30 abbiamo 4 giorni di mancato sisma c'è stato solo il sisma in mare e nel tirreno perché il 26 c'è un sisma il 30 c'è un sisma e non ce n'è uno il 2 di settembre oppure non so il 27 il motivo è che non è solo la Terra che risponde in qualche modo per cui abbiamo una prima scossa e poi ne abbiamo altre di assestamento ma c'è un problema che l'innesco del sisma forte cioè il movimento delle masse proprio il triggering quello che fa scattare la faglia che la fa scivolare è dato dalle forze gravitazionali e questa è la scoperta. In questa simulazione vedete che il 26 ottobre la Luna si allinea con Terra e Giove e abbiamo il 5.9 Richter a Castello Sant'Angelo dopo 4 giorni il 30 la Luna si allinea con Terra, Sole e Mercurio e abbiamo il sisma famoso di Norcia che è crollata anche la cattedrale ecco qui vedete si forma l'allineamento il 26 ottobre l'allineamento fra Saturno Venere e Terra c'è l'allineamento adesso qui la grafica è quello che è vi garantisco che i numeri ci dicono che sono minori di 11 gradi che per noi è la fondamentale dimensione per poterli considerare la Luna si allinea invece con Giove con meno di 11 gradi di scarto cioè entra la Luna fa così 24, 25, 26 arriva sulla linea e si realizza quell'angolo alfa di cui abbiamo parlato prima quindi questo angolo alfa la Luna arriva da qua gira così si mette in linea e in quel momento arriva il sisma dopodiché il giorno 30 prosegue il suo cammino la Luna va in linea con l'altro allineamento quello che era l'allineamento di Mercurio Sole e Terra anche lì crea un angolo minore di 11 gradi e c'è il sisma di 6,5 a Norcia ecco perché non abbiamo un sisma il 29 oppure il 2 settembre e il motivo è la Luna che è lei che dà il pizzicotto gravitazionale lo chiamiamo così simpaticamente e che causa il sisma quindi conoscendo questi moti dei corpi riusciamo anche a prevedere se non il dove almeno il quando 24 agosto 2016 faccio solo due esempi se no poi non c'è tempo poi ne ho anche altri ma non li faccio adesso e abbiamo due allineamenti Saturno Marte Terra Luna e Giove Venere Mercurio Terra stesso meccanismo abbiamo due sismi da considerare quello del 6 Richter del 24 agosto che ha poi tutta una ridondanza di sismi ripetuti chiaramente che sono sismi di assestamento successivi però poi dal 26 al 3 non c'è più niente di alto cioè parliamo di sismi alti ovviamente c'è stata una scia molto forte ma non un 4.3 perché tra il 26 e il 3 non c'è stato nulla perché abbiamo aspettato il 3 stesso meccanismo di prima adesso l'avete già capito la Luna entra in gioco vediamo in che modo il 24 agosto la Luna si allinea con Saturno Marte e Terra le due linee quindi vista già prima vedete che come questa freccia indica la Luna ha il suo senso di rivoluzione intorno alla Terra gira in questo senso il giorno 24 al mattino questo è le 9 ma in realtà già le 2 è entrata in linea con Saturno e Marte e ha fatto l'angolo di 11 gradi poi prosegue vedete che è qua che prosegue eccola qua dentro i 12 gradi c'è Giove Venere Mercurio Terra e Luna c'è tutto dentro i 12 gradi e si scatena il sisma che ho detto e prima no perché la Luna non mi stava girando vediamo se riusciamo a vedere la Luna da questo video che mi dispiace è stato un po' movimentato però avete capito che c'è un angolo dentro il quale statisticamente per motivi che non conosciamo ma che qualcuno scoprirà si crea la premessa per un sisma da questa serie di angoli sotto gli 11 gradi calcolati su una lunga statistica di confronto fra posizione dei pianeti e sismografo noi l'abbiamo fatta su un periodo che va dal 1600 dopo Cristo al 2018 quindi sono più di 400 anni di dati si possono stabilire dei momenti una statistica per cui certe posizioni dei pianeti hanno causato già in passato sismi e altre posizioni che non l'hanno causato quindi possiamo creare una lunga curva che si sviluppa sia nel passato ma soprattutto nel futuro ci consente la previsione e che ci dice guardate vedete questa specie di striscette verticali che sono come un elettrocardiogramma questi sono ogni giorno il punto G indica qual è statisticamente stata nel passato la rilevanza delle posizioni dei pianeti di quel giorno al tempo T per avere un sisma quelle posizioni dei pianeti non lo so Terra Luna Marte Saturno in linea che terremoti hanno causato in passato c'è una probabilità bassa o una probabilità alta che ci sia un sisma maggiore di 3 Richter 4 Richter noi abbiamo messo insieme tutte queste possibilità cioè abbiamo messo insieme i sismi maggiori di 3 Richter maggiori di 4 Richter maggiori di 5 Richter abbiamo fatto un'unica curva statistica questa è una media mobile non è il giornaliero è questo la curva è una media mobile a 30 giorni quindi io so se mi posizionavo per esempio e qui siamo dal 9 gennaio del 2000 mi posizionavo qua potevo dire guardate che la probabilità più alta di avere un sisma è qua cioè in corrispondenza del 17 gennaio 2003 quindi per 3 anni stavano abbastanza tranquilli senza avere sismi di 5 Richter quindi si possono verificare in questo modo scusate si possono verificare diciamo delle sequenze molto lunghe in cui io stabilisco delle tendenze date da questa curva blu di crescita ci sono delle regole che adesso vi illustro molto sommariamente che fanno vedere che la tendenza della curva statistica di incremento sismico dato appunto dalle forze gravitazionali in atto ha un andamento in crescita allora l'andamento del sismografo sarà in crescita cioè si può studiare numericamente aritmeticamente qual è il grado il coefficiente di rischio quindi si può dire che quest'area è un'area di rischio a differenza magari di altre aree che non sono a rischio quando troviamo un punto un apice così alto circondato da un guardartino rosso diciamo che questo qua è il punto statistico di maggior probabilità di un sisma forte sotto i 5 Richter ecco che allora in questo modo possiamo dire se ci fossimo trovati nel 2004 qui avremmo detto guardate che prima del 2009 non vedo rischi grossi per un sisma in particolare non vedo rischi grossi prima di aprile 2009 l'aprile 2009 fatalità è proprio qua questi dati sono depurati dagli allineamenti del sisma stesso e quindi noi per ogni sisma maggiore di 5 Richter abbiamo tolto dalla statistica il sisma di Aquila per esempio perché l'abbiamo depurato il dato dalla sisma stesso per evitare di influenzare la curva ok? quindi questa è una cosa importante questo per tutte le tutti i sismi dal 1980 in poi mentre prima del 1980 tutti i sismi avvenuti sono avvenuti e sono messi in statistica dall'80 in poi abbiamo tutta la curva sviluppata senza conoscere cioè il database non ha questa informazione qua quindi è una curva blu che abbiamo fatto noi dopodiché è arrivato il sismografo e ha seguito un certo andamento finché pum non è andato su con il top quindi era un top gravitazionale degli ultimi 5 anni noi per 5 anni potevamo stare tranquilli che non c'era questo rischio accumuli e norcia area di rischio in crescita se ci siamo trovati qua cioè nel 2002 avremmo detto per 4 anni guardate più di tanto non c'è rischio perché il rischio maggiore è in quest'area qui abbiamo avuto 2 sismi ci sono delle regole che vi accenno brevemente quando abbiamo una curva di questo tipo calcoliamo un gap di 1,5 gradi in questa scala graduata quando abbiamo un gap cioè il passaggio da un minimo a un massimo maggiore di 1,5 di questa scala abbiamo un rischio sismico per sismi maggiori di 4 Richter in particolare il minimo deve essere poi minore di 2 gradi quindi quando abbiamo un minimo alto se un minimo fosse qua e poi sale fa una cosa del genere da 5 gradi in su questa curva non desta preoccupazioni la preoccupazione c'è quando va molto giù cioè quando la statistica degli allenamenti che hanno causato i terremoti è talmente bassa come in questo caso qui da essere quasi sotto lo zero cioè siamo addirittura a livello giornaliero almeno 200% di probabilità di avere un sisma in questo punto qua e qui siamo alla probabilità di 1,2,3,4 5,4 prego l'area geografica di riferimento si è centrata su un'orcia l'attitudine di un'angitura di un'orcia questa curva qua poi ci sono infinite curve il problema è elaborare le infinite curve ci vuole un elaboratore pazzesco è un sistema di digital no 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 è solamente veramente siamo a risorse basiche cioè foglio excel online drive calcoli così ci può fare molto di più intendo però il principio è questo allora in questo modo si possono ricavare delle aree di rischio vedete dove e delle aree di non rischio cos'è un'area di rischio è un'area in cui sappiamo che se crescono le forze gravitazionali prima o poi ci sarà un boom poi in questo caso è stato in mare anche oltre a Chianorce ma con un coefficiente alto cos'è un coefficiente alto? vuol dire il rapporto fra i sismi avvenuti dal sismografo maggior di 3.3 Richter e il numero di giorni cioè questo 0,60 dice che tra qui e qui c'è stato in area di rischio un coefficiente di 0,60 pari al rapporto fra quanti sismi ci sono stati maggiori di 3.3 Richter 100 fratto il numero di giorni quindi se quest'area di rischio ha un coefficiente più alto di un'area di non rischio vuol dire che e qui è 0,29 vuol dire che ci abbiamo azzeccato cioè vuol dire che effettivamente abbiamo predetto che è un'area di non rischio infatti i sismi avvenuti sopra i 3.3 Richter sono stati molti meno perché il coefficiente 0,29 è molto minore di 0,60 ma questo lo sappiamo dopo però inizialmente possiamo già dire guardate se ci troviamo qua per esempio a 14 giugno 2013 le aree di rischio sono queste oppure come adesso stiamo per arrivare l'area di rischio è 5 maggio 2019 luglio 2019 perché abbiamo un gap perché abbiamo delle forze in crescita e quindi fondamentalmente individuiamo in quest'area qui segnata di rosso un'area di rischio ma vedete che c'è dal gennaio 2019 all'aprile 2019 non c'era un'area di rischio lo sapevamo prima quindi io a marzo sono uscito quando l'ho scoperto sono uscito con un comunicato dicendo siamo a marzo fino a maggio non c'è problema fino al 20 maggio avete sentito sismi forti fino al 20 maggio? no con questo sistema possiamo anche rispondere termino con due video veloci alle domande del presidente Doglioni dell'Ingv che si è chiesto ma come mai c'è stato un'area di silenzio sismico un periodo di silenzio sismico fra il 1980 e il 1997 il 1997 ci fu se lo ricordo un sisma di 5.8 Richter in provincia di Macerata sentite il video prima di una scossa i terremoti non avvengono in maniera regolare ci sono dei momenti dei periodi che possono durare qualche terremoto in cui c'è una concentrazione di terremoti e poi alcuni decenni in cui c'è questo silenzio in una sorta di silenzio basti pensare al periodo tra 1980 e 1997 non ci sono stati eventi importanti quindi il concetto stesso anche di tempo di ritorno noi stiamo cercando di studiare e capire perché ci sono dei periodi in cui la terra in qualche modo si silenzia e altri in cui invece si mette in movimento ecco questo dubbio ho cercato di contattare su INGV da qualche mese siamo in contatto con alcuni ingegneri per provare a portare questo modello all'interno dello studio del gruppo di studio che appunto come dice Doglioni stanno cercando di verificare questi fenomeni di silenzio sismico guardate che succede da qui siamo nell'84 per tutto il periodo fino al 97 velocemente moderato area di sismica moderata perché non ci sono abbastanza gap gravitazionali ce ne sono 4 ma vedete che è piatta cioè questa curva qui non va in crescita è piatta quindi diciamo che da qui a qui e cioè grosso modo dal 94 al dal 84 all'87 per 3 anni ci saremmo aspettati un coefficiente basso infatti è stato di 0,47 poi andando verso destra quindi dal 87 fino a fino a qui abbiamo una situazione in crescita sì abbiamo avuto un sisma a Trento e una potenza e qui siamo in data maggio 90 qua però questa crescita non corrisponde a dei gap vedete che non c'è neanche un gap mancano questi qui mancano i gap che era una delle due regole che vi dicevo prima questa qua mancano questi quindi c'è soltanto una crescita effettivamente abbiamo un coefficiente 0,38 ma è basso abbiamo avuto solo due sismi importanti e sono tanti anni dopodiché ancora dal 90 fino al 97 abbiamo un'area moderata perché non ci sono deep bottoms non ci sono quelle condizioni date da questo quadratino qua cioè da una situazione minore di 2 gradi come minimo su cui rimbalzare andare verso l'alto come forze gravitazionali situazione piatta coefficiente basso non c'è nulla guardate che succede dopo è elevata questa è un'area sismica elevata coefficiente 0,68 quindi tanti sismi maggiori 3,3 Richter sisma di macerata di 5,8 Richter e badate bene che adesso vi faccio vedere questo punto gravitazionale ve lo faccio vedere nell'insieme quanto si capisce questo punto qui è il più alto degli ultimi 17 anni questo eccolo qua questo punto qui era il più alto come curva gravitazionale degli ultimi 17 anni ecco perché abbiamo avuto il sisma qua ecco adesso previsioni per il futuro vi faccio vedere quest'ultimo video da questa situazione cosa possiamo fare? possiamo provare molto in maniera didattica ma in maniera anche approssimata qui non parliamo di matematica perché la matematica è dentro queste curve e non è certa nell'espressione che faccio con il tratto di matita io ho creato una curva a penna così a mano dei punti massimi dell'andamento del sismografo e ho uniti i punti più alti gli apici questa è la curva gravitazionale che conosciamo ecco guardate questo video in questo grafico abbiamo due serie di dati i dati in blu sono i dati delle forze gravitazionali statistiche i dati in rosso sono i dati del sismografo sovrapponendo gli apici del sismografo uniti da questa curva irregolare rossa con l'andamento del carico gravitazionale possiamo verificare se i due grafici hanno un andamento simile ecco che abbassando l'andamento del sismografo possiamo notare come gli avvallamenti e gli aumenti di carico gravitazionale corrispondano con un piccolo ritardo di qualche giorno verso destra ai valori del sismografo infatti dove il sismografo va giù come curva va giù anche il carico gravitazionale quando va su il quando va su il sismografo va su anche il carico gravitazionale a volte ci può essere un ritardo ma generalmente questo andamento è confermato guardando al futuro cioè a un periodo successivo quello di maggio 2019 adesso noi siamo al 15 di maggio non abbiamo più i dati del sismografo e quindi possiamo fare una previsione del sismografo fondamentalmente possiamo utilizzare i dati del carico gravitazionale che abbiamo a disposizione per i prossimi secoli perché sono scritti dalle leggi di Kepler possiamo andare a vedere cosa succede al sismografo e quindi individuare delle date di potenziale di potenziale rischio sismico ecco per il futuro che possono derivare appunto dall'utilizzo di queste curve dell'andamento del carico gravitazionale sovrappone portando traslando verso l'alto la curva del carico gravitazionale individuiamo le date dei possibili sismi in corrispondenza degli apici della curva ecco questo naturalmente è una visione ad ampio spettro possiamo andare a determinare abbiamo con altri algoritmi ce n'è uno che ha 300 variabili dentro determiniamo il giorno che non è determinato da questa curva ma all'interno della curva riusciamo a dare in quei 5-6 giorni intorno qual è il giorno giusto queste sono le date le pubblicate anche su Facebook quindi fisica quantistica come causa o fisica classica non lo so io non so se riusciamo a dimostrarlo o riuscirò a dimostrarlo io ma ho cercato di rendere verosimile dal punto di vista statistico che c'è un legame bidirezionale fra pianeti e terremoti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.